allora senta ci sa dire come si dice che ore sono in inglese avanti su che ore sono lo sa eh goodbye quali erano i re magi quanti erano non so ci parli di omero ci parli di omero se c'è un vino a dire di omero ci parli di omero se c'è un vino a bestemmiare voglio dire c'è non ho detto di omero cioè io voglio dire sono un papa boys ho detto di omero non ho detto una bestemmia poi voglio dire secondo me questi esami di quinto elementare se non lo passo pace nella vita lo studio non è mia tutto c'è anche la topa no? ve lo devo insegnare io ma le ducati di merda eh